In caso di mancata notifica sul dispositivo associato alla verifica in due passaggi in fase di autenticazione ai pannelli Aruba, come per esempio Webmail Pack, gestione account Pack, eccetera, è possibile utilizzare un codice di verifica al momento dell'accesso. In questo video ti mostro come fare. Accedi a uno dei pannelli Aruba, in questo esempio Webmail Pack. E attendi qualche istante fino a quando si visualizza la schermata non hai ricevuto la notifica? Tocca Usa un altro metodo. Apri l'app Aruba Pack sul dispositivo associato. Vai su Menu, tocca Impostazioni, seleziona Genera codice di verifica. Nel campo indicato inserisci il codice di verifica generato. Clicca sul simbolo dell'occhio se lo vuoi ricontrollare e poi tocca Verifica. L'operazione è conclusa, ma potrebbero verificarsi alcune casistiche, del tipo lo stato in corrispondenza del pulsante Genera codice di verifica è non attivo o se cliccando sul pulsante Genera codice di verifica si visualizza il seguente simbolo. In entrambi i casi significa che nessuna delle caselle Pack configurate sull'app Aruba Pack attiva la verifica in due passaggi, oppure che il dispositivo utilizzato non è quello associato alla verifica in due passaggi. Pertanto è necessario accedere dal dispositivo associato per generare il codice di verifica.